Eri, eccoci tornati, miei cari Poké Fanatici, dal vostro Poké Fanatico numero 1, io sono TheLars e oggi andremo ad aprire il resto del box di Pokémon Evoluzioni Appaldea. L'altra volta abbiamo aperto 18 bustine, oggi le altre 18 per un totale di 36, ma non è finita qui, vedrete nei prossimi, se lasciate like. Intanto vi ricordo che questi prodotti provengono dal Federick Store, di cui trovate il link qui sotto in descrizione e con il codice sconto TheLars avrete il 5% di sconto. Qui sotto trovate tutti i link che vi servono, poi c'è anche la Crazy Randomizer, la 4v4, lì però il codice sconto è TheLars1, quindi magari usateli tutti e due, non saprei. Eccoci qui con l'altra metà del box, si va, ho delle full art da trovare. E si riparte, altre 18 bustine per noi, tra l'altro mi sono fatto, ieri credo, un piccolo spoilerino su un set che deve uscire, ovvero 151. E, oh mio Dio, ho visto delle carte assurde, devo assolutamente chiedere a Federick, ti prego fammi aprire qualcosa di 151, perché voglio quelle carte. Ho visto poliwirle, ho visto poliwirle normale e full art, e ho visto la luce divina, ma mica solo poliwirle. Cioè le full art sono splendide, ho fatto il trick pure male, tra l'altro. Chissà quando mi abituerò che qui è 1 e non 4 e poi 2. Ma va bene così, tanto prima bustina molto soft, come al solito, e poi stavo parlando di 151, anche se arriverà dopo. Comunque sì, poi ho visto alcune full artine, soprattutto le full art sono meravigliose, quindi non vedo l'ora di portarvelo. Ma per adesso concentriamoci su evoluzioni a Paldea, perché abbiamo aperto per adesso sul canale solo 18 bustine, quindi ci dobbiamo portare avanti. Non abbiamo ancora trovato troppe carte, qualcuna carina sì, questo bel Tyranitar ad esempio l'avevamo già trovato. Se non avete visto la prima parte con le prime 18 bustine, qui sopra nelle schede trovate quello che fa per voi. Cioè la prima parte, andatela a guardare, lasciate mi piace, lasciate mi piace a questo video, lasciate mi piace a tutti i miei video. Andiamo avanti con le bustine, però basta, basta chiedere tutti questi mi piace. Cos'è? Il 2016? Lasciate un mi piace per il 2016. Voglio trovare qualche full art... No, ma magari non sulle note di Vasco Rossi, ecco, ma perché? Come mi è venuto? Serulegge, holo, che tra l'altro però avevamo già trovato, quindi that's a shame. Per adesso tre bustine e non abbiamo trovato ancora nessuna foilina. Io le carte dell'ultimo spacchettamento ce le ho qua, non ve le faccio vedere, ma ce le ho qua slivate. Avevamo trovato sì, un paio di fuori serie, era anche nel titolo del video, me lo sarei potuto ricordare. Comunque qui ho già le sleeve pronte, me ne sono portate giusto tipo metà pacchetto, perché sliverò tutto, certo, in queste bustine. No, è perché dopo vi registrerò già il prossimo video, che tra l'altro ve lo posso anticipare, però prima mettete like a questo video e allo scorso. E prima troviamo un Leica Rock EX che non avevamo ancora trovato, 260 HP, sassata e zanne spaventose. Si parlano delle sleeves e subito escono le foil. Ah, che bellezza. Stavo dicendo, comunque ve lo farò uscire molto presto, ma vi posso già spoilerare che il prossimo video sarà su due, ben due, Elite Trainer Box di Scarletto e Violetta Evoluzioni a Paldea. Due set allenatore fuori classe, ne apriremo due in un video. Vi ho già abituati bene, vi ho già abituati bene, non è la prima volta che lo faremo. E poi dopo quello anche altre cosine da aprirvi, quindi vedrete che in questo mese di giugno, e anche un po' a luglio sicuramente, gli spacchettamenti non mancheranno. In realtà non stanno mancando neanche i video, perché ne stanno uscendo parecchi ultimamente, sono molto contento di ciò. Spero anche voi. Intanto qui un bel po' di carte le abbiamo già trovate, ma va bene così, tipo questo Bax Calibur, non mi ricordo. Sandygast è un Ariyama Olo con i Makuhita dietro, questa ad esempio non l'avevamo ancora trovata, quindi ottimo. La EX è uscita, è quanto mi piace essere tornato a dire EX e non GX, perché ci sono certe cose a cui non ti abitui mai. Alla fine le EX esistono da una vita e sono contento che siano ritornate. Però, ok, la EX che abbiamo appena trovato, ma io voglio vedere un po' di roba pesante. Ci sono delle train... Oh mio Dio! Lo stavo dicendo, ma non pensavo. Allora, abbiamo trovato CU EX, queste sono Trainer Gallery, Alt Gallery, comunque Alternative Art, non sono Trainer Gallery, no, sono Alternative. E anche fuori serie, 259 su 193, la ruvidanza c'è, stavo parlando di foil pesanti, eccola qui, dopo un bel seblaiolo. Andiamo a slivare questo bellissimo CU EX Alternative, fuori serie, full art, tutto quello che ti pare. Mio Dio! Eccola qui la roba pesante che stavo chiedendo. Però, stavo parlando delle Trainer, stavo parlando delle Trainer. In questo set ci sono delle Trainer bellissime. Una l'ho già trovata ed è Gечis, anche se avrei voluto trovare l'Alternative Art, ho trovato quello normale. Comunque mi accontento perché era tipo quella che volevo trovare di più in assoluto, quindi almeno sono stato accontentato su questo fronte. Perché dopo aver aperto le prime 18 bustine mi sono andato a spoilerare il set che non mi era ancora spoilerato. Ho visto cosa avrei potuto trovare al posto di Gечis e sono stato contento. Perché tra le Trainer, a parte Gечis, Valerio e forse un altro paio, ce ne sono anche tipo tre. Che proprio, mio Dio, tenetemele lontane se devo trovare una Trainer full art, non quelle, vi prego. Sì, in pratica quelle nuove, ma non tutte. Ce ne sono alcune che mi piacciono e alcune no. Ce ne sono alcune che secondo me sono un po' piacche. Al massimo fatemi trovare Valerio, anche se l'ho già trovata la Trainer full art, quindi in questo box ovviamente non troveremo nulla, ma io sto parlando anche in prospettiva dei prossimi spacchettamenti. Tra l'altro qui ho messo male le carte e mi sono già spoilerato che sul fondo c'è qualcosa. Questa pure l'avevo vista, giustamente mi sono spoilerato il set. Questo Quaxley full art è meraviglioso. Con 60 HP e applica gel, perché c'è il ciuff. Questa in questa ambientazione è bellissima con la cucina. Questa la sliviamo, ma dietro c'è qualcosa. Dietro no. Ok, è semplicemente una O, lo sembrava. Guardavo dalla parte di sopra, però abbiamo trovato una full artina. Io le adoro e tra l'altro full artina che non avevamo ancora trovato. Vabbè che non mi aspetto di trovare troppe foil doppione adesso, che abbiamo aperto tipo boh 18 più alcune bustine ne avremo aperte boh 25. In totale per ora, se mi devono già uscire le foil doppie, meglio di no. Sono contento per il Quaxley, perché poteva essere qualsiasi altra full art. Invece Quaxley. Io voglio Quaxley. Vediamo un po'. Snover, Fletching, Monte Nevoso della Disgrazia, Corvisquire, Tauros di Paldea, Gruscia, che può uscire anche full art. E meglio Valerio. Labdisc e Mimikyu. Olo. Ok, pensavo meglio. L'obbeca abbiamo appena trovato la full art alternative fuori serie cazzi e mazzi. Adesso ho già tipo la full artina di Quaxley. Ok che è una full artina tranquilla, è una foil molto molto tranquilla. Però, cioè insomma, ma questa da dove è uscita? Ma cosa? No. Ma era di prima o era di adesso? No, non credo. Oddio, mi è scivolata dalle mani. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. No, no, no. Era del pacchetto prima. Poumot Olo. Mi confondo anche sulle carte. È assurda come cosa. Tra l'altro io non so bene cosa poi andrò ad aprirvi a luglio. Me lo devo fare ancora dire. Però non sarebbe male dopo questo box di evoluzione a paldea e l'elite magari anche aprire qualche altro prodottino. Perché comunque è un set che, ok, magari non proprio su questa carta che è un po' un png tutto con la strocca intorno. Però è un set che devo dire ha delle bellissime carte. Infatti voglio trovare altre belle alternative. Eh, in realtà voglio solo quel Ghechis. Però va bene, va bene. Potevo trovare tipo C.U. Boh, full art non alternative e Ghechis alternative non il contrario. E invece... Vediamo, vediamo un po'. Perché comunque qualche altra foil. Mancano poche bustine ma ci dovrebbe assolutamente essere. Me lo sono chiamato. Me lo sono chiamato. No, vabbè, dai. No, vabbè, dai. Valerio. Volevo Valerio. Cioè ci sono due trainer in un box. Due trainer in un box. Va bene, ho trovato Ghechis. Ho trovato Gruscia. Ci sta comunque. È bellina. Ce n'erano alcune peggiori di Gruscia. Valerio. Volevo Valerio. Ho anche la capopalestra quella di Scarlatto e Violetto. Anche quella era carina. Vabbè, dai, meglio Gruscia. Ne ho viste un paio che proprio... Che erano quelle di personaggi un po' stock. Tipo perché... Cioè almeno se devi fare le full art di quelle, falli carini. Cioè mi ricordo una full art dei tempi tipo di X e Y. Che c'erano i ricercatori con Amaura. Quella era una full art assurda. E ci hai messo due ricercatori. Con il grembiolino e gli occhialini. Ma era una full art pazzesca. Mi ricordo l'avevo trovata su Ebay. E l'avevo comprata. L'avevo pagata boh 10 euro. Perché era una full art trainer. Ma non era né fuori serie né niente. Bellissima però. Cioè c'aveva un artwork assurda. Non è tanto il prezzo quanto l'artwork che mi interessa. Tanto alla fine io le mie carte non le rivendo. Quindi... Oh! D-D-N-I-X Terra Crystal. Con 170 HP. Coda scambio. Colpo meraviglioso. Non mi piace questa carta. Cioè D-D-N sì. Mi sta simpatico tra le varie Pikachu-like form di Pokémon. Ma... No, no, no. Mamma mia. Già questo 3D stile delle GX e delle EX solite. Più il Terra Crystal che aggrava ancora di più un po'. È lo stile che non mi piace. Non il Pokémon. Il Pokémon mi piace molto, sì. Mancano 4 bustine. Non abbiamo neanche il set praticamente. Perché qui è set da 5. Artwork diverse sulle copertine delle bustine. Quindi andiamo a fare le ultime 4. Ma sono uscite... È uscita la trainer full art ed è uscita un'altra EX. Quindi non so. Io direi che forse un'ultima, ultima foil. Bello questo Spiritomb Holo. Peccato l'avessi già trovato. Peccato, peccato. La vera domanda adesso è... Un'altra foil ci sarà? Perché non sarebbe affatto male. Piano con queste carte. Che qua distruggiamo tutto. Sto già riempiendo la scrivania e dopo devo aprire altre 18 bustine. È bello questo Wupert di Paldea full art. L'avevo visto. Molto, molto carino. Il fatto che comunque ci sia tutto l'ambiente intorno e lui piccolo nella melma ci sta. Si dà più spazio all'ambientazione che al Pokémon e sono bellissime. Ne avevo vista anche un'altra. Molto, molto carina. Non mi ricordo di chi ma sempre più o meno in un contesto del genere. Spettacolare. Dietro ce n'è un'altra. Garganacle. Holo. Va bene. A noi ci interessa la full art. Bello, bello, bello. Continuano a uscire le full artine. Sono bellissime. Per quello dico che voglio aprire altro. Adesso speriamo nelle Elite di trovare bella roba. Voi ovviamente lo saprete quando usciranno i video sul canale. Ne apriremo due in un video solo, quindi vi raccomando. E se anche voi volete prendere questi bei prodotti super fortunati, il link del Federic Store è qui sotto in descrizione. Vi ricordo il codice sconto. DLARDS. Per avere il 5%. E se siete anche fan della Crazy Randomizer 4v4, e beh, lì Hortworm vi sta dicendo di usare anche DLARDS 1. Usateli tutti e due i codici. DLARDS e DLARDS 1. Fatemi vincere i prodotti del Federic Store. Che c'è la guerra dei codici. Ultima bustina, tra l'altro. Siamo arrivati. Quindi voglio andare ad aprire le Elite. La cosa bella è che registrerò quel video subito dopo questo, quindi lo saprò subito. E voi lo saprete subito se metterete like a questo video. E alla prima parte. Romelio, anche lui c'era Full Art. E anche Dendra. E chiudiamo in bellezza. Ultima bustina. Claude Sire di Paldea EX. Con 280 HP. Palude tossica come abilità. E osso. Acuminato. L'avevo detto io che dopo la Trainer Full Art e un'altra EX ci sarebbe stata un'altra foilina. Mi aspettavo poi uscita anche la Full Art di Wooper. Però mi aspettavo forse anche qualcos'altro. Magari due Full Art al posto di una Full Art e un'altra EX. Ma eccoci qui. Chiudiamo in bellezza. Io per questo video vi saluto. Vi invito a lasciare un bel pollice in su per avere altri spacchettamenti di Pokémon. Dal vostro Poké Fanatico di Fiducia è tutto. E noi ci vediamo. Alla prossima. Bye bye. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go.